La mia reazione è molto strana, perché è stato l'onore per molti anni. La Celsia in questo periodo ha vinto molti trofei. Per sicuramente era un periodo fantastico, Abramovic per la Celsia. Ora ho sentito, ho sentito che vuole vendere il club, ma per sicuramente non è una buona notizia per la Celsia, soprattutto per quello che ha fatto in questo periodo, quando era l'onore. La Celsia in questo periodo è stata l'onore per la Celsia. La Celsia in questo periodo è stata l'onore per la Celsia.